MTV Mobile ci paga la metà del nuovo abbonamento metà prezzo. Allora, dove andiamo? Ok, pronti. Valsenhausen, arriviamo! È ora di cambiare. Passa uno dei nuovi abbonamenti MTV Mobile e approfitta del 50% di sconto sul tuo nuovo metà prezzo. Ora in tutti i punti vendita Sunrise. Grazie a tutti.